cari amici di opera classica e di eco italiano oggi un'intervista molto particolare perché andremo a toccare a percorrere un connubio tra opera lirica e scrittura perché ospite lo scrittore massimo rastelli che saluto caramente ciao massimo saluto tutti grazie buonasera allora massimo tu hai scritto un libro che è uscito nello scorso autunno che si chiama ingegno capecchioni grande maestro e meraviglioso artista ti chiedo un po esatto tu hai dedicato un capitolo al teatro alla scala di milano ci puoi un po parlare magari partendo da quel capitolo puoi portarci un po al racconto di questo libro per linee generali in modo da accattivare i nostri ascoltatori dunque questo questo libro è nato dalla vicinanza mia proprio vicinanza diciamo fisica perché sono persone che sono nate nel mio stesso paese e proprio nella mia stessa piccola frazione quindi c'è una vicinanza proprio geografica con queste persone e il il teatro alla scala entra per il uno dei personaggi di questo romanzo e italo capicchioni che è stato primo clarinetto solista al teatro la scala di milano dal 1970 al 1980 per capire diciamo il personaggio lui fu chiamato al teatro all'orchestra della scala di milano da claudio abbado per chiara fama un metodo diciamo di di chiamata rivolto a personalità della musica molto importanti e lui nel 1970 ricevette da claudio abbado questo invito a far parte dell'orchestra della della scala e io non sono un esperto di musica e quindi non posso diciamo parlare come come persona che che parla che tratta il tema della musica però questo romanzo alla fine qualcuno l'ha definito un tributo alla musica e questo mi fa fa moltissimo piacere perché io ho avuto una brevissima carriera fortunatamente interrotta suonando la tromba e non era assolutamente il mio la mia attitudine quella di suonare e quindi diciamo lo vedo un po così quello che ho fatto di danni suonando cerco di ripararlo scrivendo qualcosa di interessante sulla musica e sui musicisti diciamo ho parlato di musicisti però ho cercato anche di dare un'interpretazione intima e profondo profonda di quello che può essere la musica e qualcuno alla fine insomma mi ha confortato dicendo che se c'era un romanzo in cui la musica veniva un po' sviscerata questo poteva essere il mio e mi ha fatto un immesso piacere naturalmente questo tra l'altro il tuo primo romanzo che appunto arricchisce un po' questa come tu ci hai raccontato questa attività di capecchioni però hai anche raccontato la storia di una famiglia molto povera che poi attraverso la musica si è riscattata e questa tutta la vicenda è ambientata a San Marino che mi sembra sia la tua terra natale ecco come ti è data l'idea? esatto allora l'idea è nata in questo modo io sono nato in questa piccola frazione della Repubblica di San Marino che si chiama Santa Mustiola e nel 1984 la piazza di questo paesino venne intitolata Marino Capicchioni e io rimase sorpreso di questo questo fatto e chiesi a mio padre qual era il motivo e lui mi disse guarda Marino Capicchioni è stato è sconsiderato il più grande liutai del novecento io di questa persona non sapevo assolutamente niente quindi diciamo ho avuto queste reazioni un po' di rabbia perché cioè ero nato lì e nessuno mai mi aveva parlato di questo personaggio e di lì diciamo sono andato avanti negli anni ho sempre così pensato che questa storia andava raccontata e alla fine ho deciso di raccontarla io perché sono sempre stato appassionato di scrittura però in realtà sono arrivato solo adesso a scrivere il mio primo romanzo anche se insomma ho fatto delle cose articoli rubriche su un quotidiano locale ho scritto qualcosa per il teatro quindi non era non è diciamo il mio primo romanzo ma non è esattamente la mia prima opera letteraria se vogliamo ragionare in senso un pochino più largo ecco questo romanzo ovviamente si basa su delle ricerche interviste e documenti e quindi rappresenta una libera interpretazione dell'autore di fatti e persone reali come proprio cita all'inizio nel suo testo ecco lei in queste anzi in queste ricerche come ci sei mosso hai anche magari visitato qualche bottega di di utai non so come hai costruito queste ricerche e questo percorso quasi un po' etnografico sì sì dunque io sono quando ho iniziato questo questo lavoro ormai sono passati quasi quattro anni la prima cosa che ho fatto sono andato a vedere cosa c'era già discritto su marino capicchioni e ho trovato ben due monografie di altrettanti utai una monografia di pio sbrighi un utaio riminese e un'altra di un utaio cremonese marcello villa letti consultati questi due questi due lavori queste due pubblicazioni ho capito che la mia pubblicazione serviva assolutamente perché quelle erano delle trattazioni tecniche di quelli che erano diciamo gli stili lavorativi gli strumenti e avevano delle bellissime fotografie degli strumenti ma non raccontavano la storia di questo liutaio quindi la fortuna è che marino capicchioni ha ancora due figli in vita mario capicchioni che ha la bella età di 93 anni e luciano capicchioni che invece ne ha 86 e questi due figli uno a sua volta liutaio mario e luciano invece primo violino all'accademia di santa cecilia roma sino agli anni 90 quindi questi diciamo erano delle miniere di informazioni e di dati incredibili perché per mia natura ricercare negli archivi anche se l'ho fatto non è diciamo il mio forte invece poter parlare direttamente con le persone è stato veramente una cosa straordinaria oltretutto devo dire che il libro parla di marino capicchioni e mario capicchioni gli utai e naturalmente per chi è amante del violino e della liuteria è come per l'automobilismo nominare enzo ferrari per se si vuole fare un paragone e poi giusto giusto per dire che famiglia è stata questa il nipote di marino capicchioni italo capicchioni è stato primo clarino clarinetto solista al teatro la scala di milano più altre diciamo formazioni di livello mondiale di livello mondiale per non finire qui un parente stretto di marino capicchioni è stato negli anni 40 a parigi il fisarmonicista di edith piaf e naturalmente in questo diciamo sfilata di persone altri altri personaggi della famiglia compositori fisarmonicisti clarinettisti di musica da ballo passano in secondo piano perché diciamo erano talmente grandi questi solo questi tre filoni gli utai clarinettisti fisarmonicisti purtroppo ho dovuto tralasciare altri personaggi che avevano meritato anche loro tu hai avuto necessità durante queste ricerche di ascoltare dei brani di opera o di musica classica se sì magari quali più o meno ovviamente non tutti ma magari se ci puoi dire quelli più importanti devo essere sincero che principalmente ho ascoltato musica per violino per quartetti d'archi quindi faccio fatica magari a dire esattamente quali sono quali sono i brani però per dire di suonate di Bach ne ho ascoltate tante mi sono anche piaciute e poi ho ascoltato musica di edith piaf ma questa diciamo non è musica lirica ma perché facevano parte di quel personaggio e quindi alla fine devo dire che la musica che parecchio ho tralasciato durante la mia vita adesso è tornata diciamo così come una presenza non posso ritenermi un esperto però diciamo adesso posso considerarmi ecco un appassionato poi magari ecco questo ci terrei a farlo questo Italo Capicchioni classe 1940 è nato nel 1940 giusto per capire che personaggi erano nel 1952 quindi questo ragazzino aveva aveva 12 anni si mosse il direttore del conservatorio Rossini di Pesaro per venirlo a ascoltare a San Marino perché questo ragazzino praticamente era aprile diciamo settembre successivo ottobre sarebbe entrato nel conservatorio quindi praticamente un ragazzino di prima media si mosse il direttore del conservatorio di Pesaro per venirlo a ascoltare era una cerimonia ufficiale dell'insediamento dei capi di stato di San Marino e il direttore del conservatorio Rossini di Pesaro venne a San Marino solo per ascoltare questo ragazzino che in quell'occasione esegui delle variazioni sul pastore svizzero di Morlacchi un famoso assolo per flauto ma tradotto per clarinetto in questo caso nel libro come accennavamo prima l'episodio che racconto è quello della messa in scena dell'hotello di Verdi a Milano nel 1977 e in quell'occasione venne testata dalla RAI il primo collegamento in mondo visione e praticamente un episodio interessante diciamo per me come scrittore era che nella settimana precedente al debutto Carlos Kleiber che insomma ho capito che forse è il più grande direttore d'orchestra mai esistito e aveva sospeso le prove perché non secondo lui gli orchestrali non davano la dovuta attenzione a quello che dovevano fare e lui aveva sospeso le prove e quindi questi musicisti il coro e tutti diciamo sono stati mezza giornata senza lavorare in attesa di capire quello che succedeva e quando poi questo questa persona è tornata a dirigere le prove diciamo che si può usare la tipica frase non volava una mosca e l'esecuzione fu l'esecuzione fu mirabile e quindi magari questi aspetti così molto importanti e molto interessanti magari per chi deve raccontare non sono strettamente musicali ma fanno capire magari anche chi è interessato chi poteva essere questo personaggio insomma perché c'era questa 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 sensazione sbagliata degli orchestrali che siccome carlos kleiber era figlio di un altro direttore d'orchestra molto famoso che lui così fosse un po' una persona che viveva di fama perché aveva avuto un padre importante invece poi si capì che era un gigante insomma della direzione d'orchestra certo tu prima mi accennavi anche al fatto che durante il montaggio proprio la costruzione di un violino si ascoltava opera all'interno delle botteghe sì questo questo praticamente è una cosa molto interessante che nel romanzo poi alla fine non ne ho parlato perché non c'era possibilità di parlare di tutto ma intervistando Mario Capicchioni che è il figlio di Marino gli chiedevo ma qual era diciamo il clima in cui lavoravate cosa si faceva in bottega naturalmente questi personaggi Marino Capicchioni era famoso per essere un grande liutaio ma era famoso anche per la sua comunicatività e per il suo essere romagnolo e quindi ironico burlone divertente e oltre a ricevere tanti amici in bottega l'attività principale era quella di ascoltare l'opera e quindi loro o attraverso la radio parliamo degli anni 50 60 70 o attraverso la radio o attraverso il giradischi o attraverso dei nastri magnetici loro lavoravano sempre ascoltando l'opera tant'è vero che loro sì veramente erano dei grandi esperti di opera e quindi mi piace diciamo questa immagine in cui loro lavorano questi legni costruiscono questi violini poi naturalmente in questa bottega sono passati i più grandi musicisti più grandi violinisti del mondo ci sono degli episodi raccontati nel romanzo David Oistrak il più grande violinista sovietico è andato nella sua bottega lui Marino Capicchione ha incontrato Yehudi Menwin a cui ha costruito un violino i più grandi violinisti italiani i quartetti di strumenti ad arco andavano a suonare nella sua bottega oppure suonavano nel suo giardino per dire e quindi questa cosa che loro costruivano strumenti e ascoltavano arie dalle opere famose mi ha molto toccato insomma mi è sembrato così come un rafforzativo un rafforzativo loro creavano strumenti ma vivevano proprio in un ambiente in cui in cui la musica era era molto molto presente una curiosità Marino Capicchioni grandissimo liutaio non lui non era assolutamente capace di di suonare il violino anche se diciamo era esperto nel pizzicare le corde e quindi sapeva pizzicando la corda di di un violino sapeva dire se era un grande strumento oppure no perché da parte sua suonava il saxofono e la chitarra però non sapeva suonare il violino ah ecco ok Massimo tu come ti sei avvicinato alla scrittura come hai scoperto questo mondo della scrittura ma diciamo che alla scrittura si arriva sempre non ci sono altre strade che attraverso la lettura e quindi io sono stato un grande appassionato di lettura in particolare da da giovanissimo da bambino da bambino e poi nella mia vita ho fatto altro perché ho lavorato come programmatore di computer però naturalmente questa era sempre una passione che è stata lì in qualche modo l'ho anche un po' esercitata scrivendo per un quotidiano locale ho pubblicato una raccolta di articoli e ultimamente la cosa molto interessante che ho potuto fare è scrivere dei testi teatrali diciamo non delle opere grandi però per Expo 2015 sono state fatte delle iniziative qui a San Marino e ho scritto un testo teatrale per una rappresentazione che parlava del cibo nel cibo del cibo durante la la seconda guerra mondiale diciamo che alla fine più che una delle storie sul cibo mi sono sembrate un po' delle storie sulla fame che c'era in quel periodo però insomma l'argomento era quello e quindi questa esperienza così diciamo col teatro mi ha molto aiutato anche poi nello scrivere questo romanzo insomma ok Massimo allora il libro è acquistabile ovviamente nelle librerie che spero riapriranno presto a causa di questa emergenza coronavirus ma è acquistabile anche online? Sì il libro si può acquistare in tutte le librerie perché è distribuito in tutta Italia e online si può acquistare e quindi è disponibile per chiunque lo voglia insomma il oltre al oltre al libro il documentario che è stato pubblicato su DVD sì ma questo è visibile anche gratuitamente online magari vi posso fare avere il link perché il documentario si può vedere anche online quindi quindi magari ci puoi dare il link sì magari sotto l'intervista così possiamo permettere ai nostri amici di di vederlo sì sì questo lo faccio molto volentieri perché il documentario il documentario uscito nel 2017 aveva anche come occasione quella che erano i 40 anni dalla morte di Marino Capicchioni quindi era una sorta di omaggio di omaggio a questo personaggio che era 40 anni insomma dalla morte visto che così il il tuo pubblico è interessato alla musica lirica mi ricordava Italia Capicchioni che quella edizione messa in scena dell'otello di Verdi al teatro La Scala di Milano aveva la regia di Zeffirelli e erano c'erano sempre dei grandi registi dietro anche ai direttori d'orchestra e lui appunto oltre a Zeffirelli mi ricordava Luca Ronconi che era uno degli altri registi che che lavoravano con lui al teatro La Scala e poi altri direttori d'orchestra e Thomas Schepper e Gian Maria Gavazzini e Gary Bertini che è un direttore d'orchestra israeliano e veramente ci sono lui dopo la il dopo aver suonato questi dieci anni al teatro La Scala ha fatto anche una ha avuto anche una carriera di musicista in giro per il mondo e quindi ha fatto tournée un po' un po' dappertutto insomma quindi è stato proprio un clarinettista clarinettista di 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 livello eccelso proprio di livello altissimo e dunque il clarinettista è perché il anche il romanzo è diviso un po' su tre filoni perché è intitolato il genio Capicchioni proprio perché Capicchioni sono stati chiaramente i più importanti i iutai anche perché è uno strumento di iuteria ha una vita di secoli quindi siccome adesso ci sono degli strumenti stradivari che hanno tre quattrocento anni fa un po' venire i brividi pensare che fra tre quattrocento anni o più ci saranno ancora dei violini dei violoncelli Capicchioni che suoneranno ancora quindi c'è il filone dei iutai il filone dei clarinettisti dico i clarinettisti in al plurale perché oltre a Italo Capicchioni con questa carriera di cui abbiamo parlato il padre Aldo Capicchioni era un virtuoso della musica da ballo il famoso liscio romagnolo ma che lui interpretava diciamo in una chiave anche colta aggiungendo i waltzer di Strauss i waltzer della gazzaladra insomma era un musicista evoluto anche lui e poi il terzo filone è quello dei fisiarmonicisti abbiamo detto l'esponente principale era il fisiarmonicista è stato il fisiarmonicista di Edith Piaf è molto interessante diciamo è il fatto che loro siano partiti da condizioni di miseria estrema e siano arrivati a essere delle stelle di Parigi insomma erano fra i musicisti più importanti a Parigi e quindi si può capire bene che livello avevano questi personaggi quindi effettivamente è una grande carriera e hanno segnato anche un po' la storia diciamo della musica e quindi mi raccomando invitiamo allora Massimo ti chiedo di invitare tutti i nostri amici a comprare questo tuo primo romanzo Il Genio Capicchioni attualmente nelle librerie online ma speriamo presto anche nelle librerie fisiche insomma quindi ti invito a fare appunto questo invito ai nostri ascoltatori e magari a lasciare un messaggio a tutti gli amici di Opera Classica Sì il messaggio è esattamente questo io questo romanzo questo documentario li ho creati seguendo la mia passione per la scrittura alla fine è venuta fuori anche una passione per la musica e come dico molti mi ha fatto molto piacere lo hanno definito un tributo alla musica quindi io vi invito a leggerlo e poi se cercate il mio il mio nome Massimo Rastelli su Facebook e avete voglia di raccontarmi la vostra esperienza dopo aver letto questo libro io ve ne sarei molto grati e volevo aggiungere che questo libro è è stato pubblicato da IEP editore della Repubblica di San Marino è giusto ricordarlo perché queste piccole case editrici sono molto più coraggiose di quelle grandi perché naturalmente hanno una visibilità che è molto limitata invece il documentario è stato realizzato dalla tv di stato della Repubblica di San Marino ed ha avuto il patrocinio della segreteria della cultura della Repubblica di San Marino ma ci tengo molto a ricordarlo anche del comune di Rimini perché questi personaggi in particolare Marino Capicchioni sono stati degli animatori della vita cittadina di Rimini quindi è anche importante ricordare che è stato un personaggio sanmarinese di San Marino ma anche riminese di adozione quindi ringrazio tutti per l'attenzione che mi avete dedicato e spero di di ricevere dei commenti spero positivi su quello che ho fatto ok io intanto ti faccio i miei complimenti perché è importante avere anche fonti come la tua per poter imparare poter conoscere tanti esponenti io ti parlo della musica e dell'opera ma in tutti i settori c'è bisogno sempre di ricerca e di conoscenza quindi ti faccio i miei complimenti e ovviamente anche io invito il pubblico a parlare il tuo bel romanzo e quando vorrai sarai sempre il benvenuto ad opera classica ti ringrazio tantissimo e ti auguro sempre buona musica sempre tanta gioia nelle tue attività grazie grazie mille grazie a voi e a tutte le persone che ascoltano grazie ciao massimo ciao 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 ciao